Eh? Eh, c***o, chi ha deciso che giochi tu? Mi sa, ti ho impiuto da casa. Te le voto, te le voto la decisa. Allora ragazzi, buttiamole giù per chi gioca, perché a me mi sta bene che gioca lui. Allora, ha deciso, te le voto, te l'ho detto. Te le ho impiuto da casa? Dai, buttiamole giù. U-tiam-o-le-giù. Tu, quattro, cinque, io. E così funziona. Capito 13, vittime. Come avresti puntato? Da lui? Da lui? No, da uno, due. Uno, due, tre, quattro, cinque, infatti. Capitolo 13? 13 com'è la carta della morte? La zilla. Dei tarocchi? La zilla. Lo sapete perché portagliela il numero 13? Io so, e non ve lo dico. Ma volete sapere? No, sinceramente, se no ve lo dico. No, dimmelo. Poi ve lo dico. Allora, il 13 qua è successo un macello bello. 13, 13, 13. No, le cassette da fruta. È una coincidenza? Io non credo. Io non credo. Allora, ovviamente, il numero 13 porta a zilla perché scritto in numeri romani, è una X e tre linee. Sì. Giusto? Sì. Che spostando queste tre linee, cioè... Vixi faceva la... Ah, no, quella è 17, scusate. Sbagliato. No, questa tagliala, poi se no Chiara se lamenta che... Pure lei, ma... Che dice che sono un urante. Distributore, oh. Brain. Te lo ricordi? Ciao, Brain. Madonna, che figura de merda che ho fatto, raga. No, ce sarà un motivo. Scrivetecelo nei commenti. Non vale Google. Non vale Google. Oh, c'è la storia. Zitti tutti. Zitti tutti. Basta. Maira, se n'è andata e non ritorna più. Suppe, parte la sua roba, tutto sparito. Se n'è andata, zitti. C'è segno di frazione, insieme. Eh, se n'è andata. Tutti pensano che mi abbia lasciato, sì, è così. Tutti pensano. A coglione, se n'è ida. A parte il fatto, non la definiscono sporizione. Coglione. Eh, guarda, qualcuno ha provato a mettere l'ombrello e una valigia smadonnata. La lascio qua. Ho racconto il centro. L'hai fatto, l'hai fatto scoppiatutto. Ma questo che cazzo sta a guardare? Scendiamo a vedere. Ma dove? Che cazzo scendiamo a vedere? Allora, Google, perché il 13 ti porta sfiga? Sicuramente si sa meglio. Ferma tutto, ferma tutto. Aspetta. Ferma, fai, 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 fai. Sto a vedere se posso prendere. Iscrivetevi. Madonna mia. Perché si scordano a fine video. Guardare video senza essere iscritti è abusivo. È come andare su a vetro senza armi ghiere. È come piratare un videogame. Esatto. Rubereste mai una macchina? La pirateria è crimine. Sfortuna. C'è proprio la pagina di Wikipedia. Acido proprio. Scrivito. Sì, c'è stato l'interruttore là. Eh? Adesso è fermato, sì. Le torri gemelle me le so. Rega, ma che c'è? Guarda com'è messa. È tutto l'urro. Sì, è qua, sì. È la metro C. Sparaci con la pistola. Ma quanto devi essere forte poi nella realtà per sparare a un filo con la pistola? È real possibile. Lo chiediamo a chi spara per il nostro bambino. Ahoh. Corì. Eh, mo che ha scaggiù. Un lo sa la pianderpaio. Che paura, hai visto? Ti sei salvato, YOLO. No, non farlo. Ma che deve? Eh, corresta là. Ma fallo buttare. Sceni, sceni, è morbido. Muttati. Forse c'è un'altra strada. Lui c'è sempre un'altra strada. Il sacco dei pesci, ero. Beh, stavo... Oddio, raga, qua non finiscono mai i mostri. Fammi un coglione. Attento, sì, che qua... Oh. Io con i piedi colpi. Spaventati. Ma fai prenda il zio. Apri tutto. Apri tutto. Spaventati. È caldo. Ecco, entraci dentro, calco. Dai, sicuro, quick time event. Ah, ma qua a destra c'è? Che c'è? Chi è quello? Prego, venga. Dica. Capo. Mister. E me? Maschio. Ah, oh. Afro... No, no. Capo. Vieni. Ah, questo me lancia l'agli cortella, però. Eh, 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 nascoli. Sono subito da lei. Grazie. Ma che c'è l'arma? Eh sì. Un po' curto. Ma che ha la maschera di se... Se questo non è un handbag, raga? Ma donna mia. T'ha visto, t'ha visto, Tana. R2. No, R2. Capirei, dove sarà andato? No, no, questo è aperto. Questo è aperto proprio. Questo è aperto. Questo è aperto. Dai, ma il tuo studio. Manco la puzza, sento. Dove sarà andato? Ma lui è proprio così. Io non semo. Eh, seccalo. Provacelo. No! Non m'ha visto, non m'ha visto. Se no, non ti ha visto. Sì. Che cazzo fa questo? Vedi che questo non è, sia a vivere male. Avvomitare? Se sono... Il finto... Che cazzo succede? Capirà, raga. No, è sempre quello l'altro. Spopola. Prego. Io lo fa? Sì, a me non ha trappato. Un disastro. Ho detto la maligia! Me lo porto in vacanza! Me lo metto in tasca e te meno dopo. C'è, a me si è... Menaci, menaci. Tira. È intabile, è intabile. No, la rovesciata l'ha fatto. Cerchio, cerchio. No, la morta... No, la ributtano. Nacido. Nacido. Oh, schioppa! Pozzo. Cazzo per il tuo... Senji, ronchiato, ma che cazzo è? Quella c'era le tette da un miliardo di dollari, raga. Tutte queste. Non c'è, su Facebook non ci sta una pagina alle tette di GF. C'è una pagina alle tette di GF. Io c'avevo un like alle tette di GF e al culo di Shakira perché mi faceva troppo ridere come cosa. Poi che pubblicano. Un cazzo, al culo di Shakira e alle tette di GF. Non è che potevano pubblicare articoli dei Repubblica. Dai, raga. Questa va a fare la storia. E tanto... No, andate, si è matto pure e sparavo. Ma come mi ha preso? Boh, è tornato da... T'ha indicato, sì. Niente, lui è invincibile. Ha cambiato pure il modo di combattere. No, però, porco, scusa, ma perché a voi cadeva? Ma fate giocare, dai! Gioca. Ma perché a voi le cadeva? Cioè, perché? Io, ma a me la Bethesda ho scritto solo la coerenza, punto. Ma da voi ce l'hai fatto? Aspetta. Un video del backstage, mentre io ce riprovo. Allora... Ma come diso? Ma come diso? Nord, Game of the Year, amonimurtacci vostra. Apri un porco 2. Info at Betsoft. Ecco, bravo. La coerenza. Dove sta? Porco 2. Pialo. Come si fa? Basta che clicca in te lo manda. Tabre Outlook. Outlook. Te lo usi Outlook. Ma che io mandi come TGL? Raimundo Mariano Massari, si è iscritto al nostro canale. Bravo, Raimundo. Grazie, Raimundo Mariano Massari. Info, se vuole vedere la gente. Dai, dai, dai. Non mi spostate. Subject. La coerenza? Subject. Ma la coerenza? Scrivi, stiamo a giocare a cosa? Stiamo giocando a... Dei within. Ci fa molto bestemmiare. Dei within. E riscontriamo dei casi di... Scusa, Luca. No, aspettiamo, aspettiamo. Spostiamoci, spostiamoci. Riscontriamo dei casi di incoerenza di meccaniche di gioco. Esatto. Meccaniche di gioco. La presente solo per informarvi. Discomando. Che gabbi, ma io... Perché... Invia. Dite tutti insieme a noi. Invia. Uno, due, tre. Invia. Noi l'abbiamo inviata, ragazzi. Aspettiamo una risposta. Madonna. 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 Ma chi? Ma chi? Oh! 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 Riscontriamo una seconda mail a quei strozzi. Che paura. Luca, gli spari tutto. Si, spara ieri tardi. Che tanto non gli usiamo. Bravo. No, brucialo. Ah, che brucia? Sì. Oh! Brucialo. Eh no, si è bancato, Riscontriamo. Madonna, che gioco. De merda. Sparei una bomba. Faro c***o. Sei bestemmia, Luca. Non sei bestemmia. Non sei bestemmia. Quante volte. Vestecista. Ma dove esce? Dove esce? Mi stanno uscire. Eh, lo sapevo io. Ma dove esce? Ma dove esce? E dove esce? C***o. È torerissimo. Ma scrive una terrorissima. P***o. E stiamo ancora qua. Dopo 30 ore. Sempre sto corridoio. Ho preso tutte. Le granate. Le bombe. Le cose. Fammi bere il vino. Ma dove esce? Che è qua? Ah, è vero. 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 Quello, questo qua. Dove è la nana? Spare gli dite la schiena. Da un fame proprio. Arzalù, eccolo, buono. Vai. Gli dai una cortellata per piacere. No! Ma perché? Oddio! Che fai? Aspetta. No, no, no. Corri più forte che puoi. Gira in tondo. Gira. No, del lato. No, me nascondono in tre cose. Certo. È vero. Devi rarmi. Dai! Costa fiatone! Le mani, i pupazzi gonfiabili. Oh, scusi. Scusi, io stavo entrando. Cazzo. Io me ne vado. No, no, no. Non so chi. No. Chi? Regà. Regà, porc***o. Non c'è un go. Non c'è un go. Ma che cazzo succede? Dai, gliela cortellata. Non gliela faccio. Vai piano, vai piano. Regà, 10 minuti di panico. 10 minuti di panico. Gira qua che ce ne sta un altro. Così si sta? Ma che cazzo dici? C'è l'hai dietro? Ah, sì. Non so. Piano, piano. Piano lui. Madonna, è entrato a gamba tesa. È entrato tipo molteno. Spara. Sparalo. Porca puttana. Non c'hai colpi. Ah, gabbomba. No, qua no. Vai sul balcone scavallo. Mori sparato. Oddio. Vai sul balcone. Scavalla. Scavalla. Che pierpalo. Vattene, vattene. Gorgori. Occhio allo scatto. Occhio allo scatto. Occhio allo scatto che poi muoge. Gira, dite qua. No, vattene là, vattene là. Allora, qui siamo in un po' di più. Fate segui, fate segui. Vattene, fai il quickscope de Cristo. Oh, qualcun tu, eh. Sparagli in testa a sto pezzo di me. Ma ce l'avrà la testa? No. Non siamo a via. Evidentemente non ha la testa, ragazzi. Regà. Gira da sotto. Yeah, yes auto. Vai doppio kill. Doppio kill. Lo fai. Ma more con colpo uno. Vai. Ecco. No. L'hai preso? No. Brucialo. Vado a brucialo. Oh, brucialo. E questo è il tuo cazzaito. E che fa? Non capisco. Mori pure te. E lui non capisce. Oh, brucialo. Brucialo. No, no. Ehi, ehi, ehi. Saranno finiti, porca puttana. Regà, questo gioco. Oh, abbassa. Eccola che se morivi così, ti giuro, io uscivo il canale. Uscivo il canale. Oh, madonna. Sei come abia, chiaramente. Ah, casca sotto. Venniamo sotto. Dai, si, si, spara. Eh, infatti. Qua c'è sta il martellone. Lui, ho di già, c'è sta la per terra. Qua c'è sta il martellone. Martellone, sì. BUSIO DE CULO! Ma che fai? Scarta vetro tutto. Però, secondo me, non fa in tempo a disillasta tutto. No, che cazzo. Spendiamo sto cellulare. Oh. Salvamo. L'unica porta chiusa. È un sorriso. Ma chi ti ha senc'ula? Bello. Ma chi è? Io voglio andare a salvare. Scusi. Come? Non hai ancora capito. È quello che fa. No, no. 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 Vuole fargli sapere che è lui a comandare. Ma chi è, Valeria? Mi sembra tanto con le facecchie. Chiam, chiam, chiam. Le fa sbagliare. Bravo. Danna di frappole. Facci del... Quando è successo a me e ho visto cosa succedeva, io ho visto. Ma non potevo scappare, dovevo conoscere la verità e lui lo sapeva. Ma chi sei te? Il noo. Oh, oh, è questo? Detective Castellanos. Signorina, sia onesta. Sto impazzendo. Senti che ti sembra. Se vuole sopravvivere. Deve scegliere di chi fidarsi. Io mi fido di chi. De te, no. Che me passi attraverso il cuore. Capito, buono. Penetro. Un'altra volta, ti prego. Chi penetro. Fatti penetrare, fatti penetrare un'altra volta. Ragazzi, di chi ci possiamo fidare? Chi è questo? Ah, è sparito l'Utzi. Detective, che bomba. Si segnala la scomparsa di due punti. Detective della polizia. Cosa sa cosa? Oda? Come Ciro. Capito. Acqua dove, raga? Oh, vuole capire un po'. Ma che cazzo? Ma c'è tu bomba in faccia? Ma chi è? Io lo zoomo. Madonna, io spara una bomba, raga, posso? Sparaci. Esploderà. Aspetta, aspetto che risale. Ma non risale, sì. Si è aperta la porta all'altra. Chi è? Chi è? Chi è? La pezzo da me. E mori? Esplodi? Esplodi. Madonna. Che cazzo? No, è rimasto del carbone. Rimasto del culo. Oh, sti barato. Cacchi, barato. No, c'è il barato. No, no, c'è il barato. Eccola. Guarda, vedi? Ti devi far sgammare tutta la cucina. Tutte le pentole. Madonna, queste salamelle. Mori, io. Eccolo. Cosa è? Sta fai, madonna, è morto, martinio. Adesso la sarme. Orcone, adesso mi stai ancazzando. Eh, se vabbè, poi. La festa ci sta. Ah, lui ha po' poss... Le salamelle. Le salamelle. E adesso... E adesso... Oh, è The Flour is lava, zi. The Flour is lava. Ma che... I robottini quelli che puriscono. Ma che cazzo? Dai, regà, no. Non mi ha detto che da fu... Io più, la madonna. Madonna, è sparita. Bah! No, la trappola. Ah, zi, non te... Madonna, ma che cazzo è? Ma che è diventato... Oh, attenta a quella... C'è divenza frontiere. A robottino... Ma non ci può salire sopra i cosi? No, è impossibile. Come se si chiude il fuoco? A tempo, a tempo, a tempo. Vai, vai. Attenta al robottino. Madonna mia! Ma è normale che una cucina è così, scusate. Oddio, questo ha altro che Gordon Ramsay. Altro che MasterChef, davvero. Tu vuoi che muoro, proprio? Eh, ha dato un carcio. Quello per te ne ha dato un carcio alle palle e ti ha fatto sbattare la testa su. Ah, perché... Questo ha il lavoro per andare a Big Napo. Big... PAPPA! Big PAPPA! Mamma mia, Robot Wars, te lo ricordi quant'era amico, regà? Regà, che bello, Robot Wars. Robot Wars era qualcosa... Scrivete nei commenti se lo seguiate. Era bello quasi con la tua lion... Ma come sta la trappola, regà? No, War Corps 2. Sparaci, provati a... Ma che ci spari? C'è fatto? Via qualcosa. Via tragoi surgelati, che ne so. Oh, di silla sta qua? No, c'è pure l'acido, no. No, so via. Signora Longari! Azzita! Madonna, sei incastrato. Cazzo. Loro hanno messo proprio tipo i movimenti random, proprio c'è il codice random. Eh, il robotino da cucina, quello che pulisce per terra, che quando c'è il sensore che va verso... Sì, sì. Ah, sta là. Se vuole pure costruire un'edicola con l'uscita e devo dare da Agostino. Ma che cazzo stai? Sì, sì, il robotino... No, e vabbè... No, è esplosivo! Arbitro, arbitro, arbitra. Lui tornazzo, la cosa che ti chiede. C'era un'uscita che uscì in edicola, per fatto il robotino volò là. La polizia? Sì. Tipo Topolino che te dai. Esatto. Verde. Oh, me salvate, per favore? Me la fai un po' più blu. Mamma mia, questa è proprio la cosa frigo. Glory Hall. Fidaci Erpè, blu. Infatti me l'ha fatta un po' più blu. Verde, di nuovo. Blu. Madonna, c'è la friga. Ma che cazzo? Il quarti de' manzo, per favore. Ovviamente lui si chiude dentro, e noi noi si tocca, fagli al culo. Rosso. Rosso. Vulcan Raven subito, ragazzi. Ancora tu? Dove cazzo sta? Non dovevamo vederci più. C'è una cazzo, ma è luce d'alto. Ah, porco tu! Questo non ferma nessuno. Cazzo, tanto, la legge... Lui si è fermato. Ah, beh, io ho una pizza a Yoda. Ma che cazzo sta succedendo? Regà, regà! Che cazzo sta succedendo? Eh, pure. Eh, sì, ho capito. Chi ha? Eh, certo. E chi le toglie le castagne da... E chi ti chiamerai? Madonna. Che è successo? Grande inquadratura. Complimenti Bethesda per le inquadrature. Stavo a quattro robottini. Oh, me lo so perso, regà. Oh, sta qua. Ma che cazzo era? Bravo, l'hai rotto, l'hai rotto, l'hai rotto. E mo' escono i robottini. Quindi, diviate tutta la roba che trovi in giro. Ti si scasca, scusto. Madonna, tecno. I robottini li posso uccidere. No. No. Ah, porca puttana! Ah, no. Non esplodono. Ah! Madonna, lui e papà ha fatto la caricata. Lui ha fatto la cinghia mattanza. Mamma mia, due colpi di magno. Non basta, non è questo. Non c'è più cazzo. C'è la pistola, la pistola, la pistola. C'è pure data. Oh! Due colpi, Napo. Eccone un altro. Oh, è verde, è verde, è verde, scappa! Dove è verde? Quello. E che se? Se guarda pure intorno a questo strozzo. Ci pensa due volte. Cresco d'ottima. Dacce fine, dacce la fine, dacce la, dacce la, dacce la, dacce la, dacce la, dacce la, Spinello. Io sono, co, sono contrariato. No, non ce la dare. Cazzo. Oh, cazzo. La luce. È stata la luce. No, se accende la luce. Cazzo. Cazzo. C'è una luce. Sono due cazzo. Infilati tipo di traverso e di muri. Se vede qualcosa è la luminosità che è stronza. No, non si vede niente. Scusate il video nero, ma è proprio nero sul segno. Scusate di reparolarci, non iniziamo noi. No. Adesso siamo scesi, regà. Sti cazzi per chi erano, scusa. Piano terra. Baratto. Eh, lì è tutto buio. Exit però, ragazzi, per fortuna. Io invece vado per là. Vai, vado per là. Qui. Fatte police. C'è nisuno. Qua c'era un muro. Oh, spaccava, cazzo. Il topolone. Cazzo, non trovo mai in cazzo. Cazzo, sei sfigato, qualcun due. Le sputinaria ti ricasca a testa a te. Vabbè, grazie al cazzo. Però niente mostro. Niente mostro, va. Stiamo dicendo. Forte. Forte. Ma c'è. Il treno. Le bolle di sapone, scusate, regà. Il ritardo di 140 minuti, il treno, adesso. Mi spiace. Oggi non vai a casa. Mette ne altre i 40 milioni. Bevendo l'aria. Bene, bene, bene. Ha fermato il tempo, lui. Si è cagato addosso. Ma mia Matrix, questi effettoni, regà. Chi è che sarà sorpreso? I flair, sempre. I genitori. Che cazzo? Quindi lei ha fermato il tempo, è diventata Neo. Perché lei... Lei ha l'occhio pure dietro. Ma non sai ciò che Rubik vuole. E' come se sparavamo tutti. Mexican standoff, ragazzi. Lui vuole Leslie. Leslie è Rubik. Vuole finire il suo esperimento. Non fare il moralismo. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. Spara! Che cazzo? Leslie è il solo che può. Che cazzo? Ma c'è la radio al tempo. Ma perché? Si è pesa una pallota. Ma male, e vai. Mori, pezzo de' merda. Di tal super saliano. Ecco. I palazzi che ritrovano notati subito. E lui è giù. Carca puttana. Mi ha fatto un attimo. Mo ce ritrovamo a Quintigliani. Però, però, però. Mi ha fatto incazzare quando non mi ha invitato all'unisono. Abbastanza clip. Emozionante. Non ci abbiamo capito un cazzo. Come al solito, siamo arrivati al penultimo capitolo. Ancora se cazzo. I bagger. Solo che si sparavano tutti, ragazzi. I bagger. Ma a un certo punto, cioè, quelli che dovevano essere amici si sono puntati la pistola a vicenda. Uno si è preso una pallotta o la rama. E questo è un bucio di culo nero per... Dio, no, un senso di... Un senso di... Un senso... Capito? Metaforico. Sì. Per salvarlo e lui si è preso una pallotta o la... Davvero, ho capito? Da chi? Mana a Gioi. Stavo a scordare una cosa. Iscrivetevi. E mettete il like. Polligione all'insù. E salutate vicini i vostri figli di noi. Quando vi vedete. Ciao. No. Lasciamo il polligione. Ciao. Chi è? Questo è il polligione. Ok.